il treno regionale 12 9 7 1 di trenitalia delle ore 6 e 16 per cagliari è in partenza dal binario 2 ferma a villa massagia donus novas siliqua villa speciosa uta decimo manu assemini cagliari elmas elmas aeroporto il treno regionale 89 10 di trenitalia delle ore 6 e 52 provvede niente da cagliari è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 89 11 di trenitalia delle ore 7 e 10 per villa massagia donus novas è in partenza dal binario 2 non sono previste fermate intermedie il treno regionale 89 12 di trenitalia delle ore 7 e 51 proveniente da villa massagia donus novas è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla